Mike, Mike, non c'è? Faccio da solo. Con l'infostrata potete avere la DSL senza limiti. Telefonate a zero con meno di 10 euro al mese fino a primavera 2010. Leonardo, che ci fai qua? Papà ha detto che ci vuole un giovane per parlare internet e tu sei troppo vecchio. Ah, io sono troppo vecchio. Ve l'ha detto papà? Allora, chi è il regista? Io. Perché? Chiama il 159. Papà e figlio. La 1 o la 2? 3. È il figlio.